Tutti in palestra, tutti in palestra ad allenarci. Oggi seguiremo la giornata di un personal trainer. Sì, lui, il personal trainer di tutti i VIP. E cominciamo dalla colazione. Un momento fondamentale per un atleta come Nathan. Preparo una cosa fondamentale, preparare tutti i pasti e organizzare la giornata. Io ho preparato il mio pranzo. Come ho detto, questi 150 grammi di riso, tonno. Oggi cambiamo dal pollo, che se no mi escono le ali e le piume. Proteine. 50 grammi, con le malte vestire, che sono carburato in polvere. Subito dopo l'allenamento, importante, subito dopo allenarsi e integrarsi subito. Secondo spuntino della giornata. Quando abbiamo le gallette di rise, oggi non sono il cotto sgrassato, come può essere il brasaro e il tacchino. Questi sono ciò che faccio. Quindi meno male, questo è ciò che mangio quotidianamente. Preparo tutto, la borsa è pronta e ci vediamo in palestra. Ciao. 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 Bene Nathan, una giornata con te, un durissimo workout. Ci vuoi dire com'è andata? Bene, bene, bene. Oggi la scheda prevedeva dorsali, quindi abbiamo allenato la schiena e si sente, si sente. È andata bene. Abbiamo spinto, come sempre. Allora, un consiglio per chi volesse allenarsi con te? Dico sempre che di affidarsi a un professionista, in primis, però la voglia, la motivazione deve partire da dentro di te, cioè in primis da se stessi. Poi un professionista può darti quei contenuti, quelle conoscenze che una persona magari non ha, ma la voglia deve partire tutto da qua, tutta la questione di testa. E allora, mentre lui beve, noi ne approfittiamo per salutare tutti gli amici e gli ascoltatori di TG Events e ricordatevi, socializzate. Ciao.